L'auto si è ribaltata finendo capovolta. Spettacolare incidente ieri intorno alle 2 del pomeriggio a Curtarolo in piazza Martiri. Fortunatamente senza gravi conseguenze. Nello schianto tra due auto una vettura si è completamente rovesciata. Ferita la conducente è rimasta incastrata all'interno e liberata dall'intervento dei vigili del fuoco a corsi da Cittadella. La donna è stata portata in ospedale a Campo San Piero per accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un'ora. Poco prima invece all'incrocio tra via Argine, Villa Bozza e via Umberto, sempre a Curtarolo, i pompieri erano intervenuti per un altro incidente stradale tra due auto, due le donne ferite. In questo caso una settantenne è rimasta incastrata e una trentenne che è riuscita a liberarsi da sola dalle lamiere.